A seguito della sospensione del vaccino AstraZeneca su tutto il territorio nazionale, l'ASL Salerno comunica di aver sospeso le vaccinazioni. Con tale prodotto sono pertanto rinviate le vaccinazioni già programmate per il personale appartenente alle categorie per le quali è prevista la vaccinazione a vettore virale e si invitano gli interessati a non recarsi presso il centro vaccinale di riferimento in attesa di nuove comunicazioni. L'ASL Salerno comunicherà ai cittadini la ripresa delle attività appena vi saranno le condizioni.